Dall'accoglienza ai turisti al ciclo dei rifiuti, otto consiglieri comunali ricevono dal sindaco Luigi De Magistris altrettante deleghe in alcuni settori di interesse per la collettività. Un conferimento, ha spiegato il sindaco, che non interferisce in alcun modo con le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo da questi svolte all'interno di consiglio e commissioni, ma è espressione della volontà di ciascuno di mettere le proprie competenze al servizio della città. I consiglieri hanno dato la disponibilità a fare oltre rispetto a quello che si fa in consiglio comunale e nelle commissioni, è previsto dalla legge, credo che sia un fatto importante perché sono ulteriori proposte per amministrare nell'interesse dei cittadini, in pieno coordinamento con la Giunta, con gli assessori. Carmine Attanasio riceve la delega alla riforestazione urbana, Teresa Cagliazzo quella al rilancio del turismo, Amalia Beatrice offrirà il suo contributo sulla programmazione per gli adulti, mentre Antonio Luongo sull'energia alternativa. Di ciclo dei rifiuti si interesserà il consigliere Francesco Vernetti, Luigi Esposito di personale, la polizia municipale va a Carmine Sgambati e l'igiene urbana a Carmine Schiano. Sono dei consiglieri che hanno ritenuto di mettere a disposizione anche sull'aspetto più dell'amministrazione quotidiana le loro idee, io l'ho visto come un fatto positivo, non sappiamo se funzionerà, è un nuovo modo di lavoro che può essere utile, perché siccome il lavoro è tanto, se arrivano proposte intelligenti vuol dire che questo è un percorso buono. Questi sono i primi consiglieri, poi probabilmente ce ne saranno anche altri, vediamo.